Stavo dando un'occhiata a tutti i vostri lavori e soprattutto anche ai premi perché sono 5 riconoscimenti dall'ADC che si è appena concluso e dopo ne parliamo uno a uno perché sono uno più meritevole dell'altro ma la cosa che viene subito all'occhio è che non c'è uno spot, la direzione delle produzioni va in tutt'altra parte. Esatto, ormai devo dire che la produzione si è diversificata da 5 anni a questa parte e negli ultimi 3 anni ancora di più anche andando a canno vediamo, tutti i vari wash sulle case, i lion's glass, ormai il linguaggio è più che mai digital e il digital offre l'opportunità di produrre contenuti uno completamente diverso dall'altro. A noi devo dire che questa cosa ci viene bene ultimamente perché poi ci viene anche riconosciuta dai premi, non ultimi premi della DC poi anche a Cannes quest'anno sempre con Dacia per cui ci troviamo bene in questo ruolo di interpretare il digital dal punto di vista proprio produttivo perché è poi un ruolo che lascia anche molto spazio interpretativo da parte sia della regia che della casa di produzione perché di solito non c'è un grandissimo budget ma a tutti si vuole fare sempre il solito maledetto lavoro molto bene per cui sia la regia che la produzione devono essere creativi nel trovare modi brillanti e anche interessanti nel fare lo storytelling che è quasi sempre il tema da affrontare, raccontare proprio la storia di questi eventi. Vado a memoria ma poi insomma tu mi ricorderai se lasciamo fuori qualcuno La potenza della bellezza che è stato un po' il film, questo non c'entra con la DC però è uno dei lavori che mi viene da ricordare dei vostri ultimamente. Questo è un lavoro di cui andiamo molto orgogliosi perché abbiamo vinto l'appalto che ha indetto Palazzo Italia per proprio questa installazione, la direzione artistica del gruppo di Marco Balice e della sua struttura per cui abbiamo lavorato con loro molto bene ed è un lavoro che ci ha consentito di proprio cimentarci su una cosa molto interessante che è la contemplazione del paesaggio italiano, la valorizzazione delle sue architetture e se vogliamo anche l'esaltazione dei dettagli proprio dell'arte per cui abbiamo viaggiato in 20 ragioni diverse andando a prendere nel migliore momento i paesaggi siamo entrati un giorno dopo l'altro in luoghi meravigliosi è un lavoro che ci ha riempito molto, questa bellezza proprio l'abbiamo interiorizzata bravissimo Senti poi appunto Dacia Sponsor Day l'abbiamo nominato nel racconto video ma c'è anche tutto il percorso all'Italia che avete fatto per il discorso all'Italia i lavori per Discovery Tutti i lavori bellissimi, comincio da Dacia che ormai era la seconda volta che ci convolgeva Publicis Italia con quale abbiamo affrontato anche due anni fa sempre Dacia c'è sempre il lavoro, poi l'abbiamo fatto, sempre molto faticoso, difficile perché per riuscire a tirar fuori il meglio da questa produzione però al fine il lavoro viene sempre, devo dire, di livello e viene riconosciuto dalla DC dal Festival di Cannes per cui molto importante per noi Poi Discovery, ecco Discovery è un lavoro, il video fatto con Totto Coutinho un'idea brillante di Leo Burnett e che siamo riusciti a tradurre bene in video con la partecipazione di Totto Coutinho è stato risvegliato un grande leader della nostra canzone nazional popolare il grande Totto Coutinho che cantava in cinese per cui è veramente divertente all'Italia invece è stato un lavoro molto particolare perché una produzione durata un mese raccontava l'idea di queste, sempre Leo Burnett, un'altra idea brillante è Leo Burnett e raccontava l'idea di queste promesse che volevano fatte dalla Nuova l'Italia dai dipendenti all'Italia che venivano poi sia intervistate che scritte poi stampate sulla carlinga di un aereo che poi arrivava nel grande evento in cui si presentava al pubblico, alle grandi istituzioni e tutto noi di fatto in queste tre settimane abbiamo ripreso e montato giorno per giorno quello che veniva girato come si fa più nella produzione televisiva per poi farla diventare una case unica, una case history proprio video che raccontasse appunto questo In questo nuovo modo insomma di intendere la produzione video voi però continuate a credere nell'importanza della regia? Assolutamente, prima di tutto a livello, non perdiamo la nostra vocazione all'inizio noi nella nostra prima parte della nostra storia lavoravamo molto integradisti, lavoravamo con i nostri quattro registi in esclusivo poi da ormai quattro anni a questa parte abbiamo cambiato teniamo sempre viva la nostra vocazione di far crescere i registi abbiamo la nostra piccola scuola di regia interna che sforna ogni due o tre anni un talento per farlo crescere un talento ci vogliono 4 o 5 anni per cui pazientemente lo facciamo cimentare in diverse situazioni della produzione per poi fargli capire bene cosa è l'interproduttivo per poi farlo arrivare o alla regia o alla direzione della fotografia alcuno magari poi va a finire nel montaggio poi altro capitolo a parte importantissimo abbiamo cominciato anche noi a fare scouting di regia ormai da quattro anni e cerchiamo di farlo proprio con questa nostra vocazione pura verso questo lavoro per cui abbiamo i nostri canali comunque anche stranieri ovviamente per andare a prendere il miglior talento che riteniamo adatto appunto per l'idea, per lo storyboard e poi anche ovviamente in Italia c'è una certa discriminazione tra stranieri italiani che è un po' il tema che sempre si dibatte anche tra donne qua parlo più da regista che da produttore che è un grande tema che già con Air3 con l'Associazione Italiana dei Registi abbiamo toccato 10 anni fa che insomma chiaramente l'esterofilia fa parte dell'essere italiano tutto ciò che arriva da fuori è tutto più bello per cui senza rinnegare ovviamente che ci sono grandi talenti all'estero che fanno cose meravigliose per cui tanto di cappello non c'è dubbio che la vocazione creativa italiana è più a cercarlo all'estero quando penso che molte volte su certi prodotti su certi scritto, su certi budget specialmente un sano regista italiano io dico un sano artigiano italiano con tanta passione è in grado di farla allo stesso livello del regista straniero tanto decantato ma secondo me con quella passione in più che poi fa la differenza nel nostro lavoro visto che siamo a fine anno ti chiederò poi anche insomma un po' un consuntivo una tua opinione su come è andato questo 2015 ma prima mi piaceva volare un po' alto insomma il vostro film Pane dal cielo a che punto siamo? la raccolta fondi funziona? quando lo vedremo realizzato? allora abbiamo iniziato tutto sta andando avanti un millimetro al giorno questo tipo di imprese in Italia quando parliamo di cinema autoriale indipendente che poi parla di un tema sociale così grave anzi se vogliamo ancora più attuale oggi con l'immigrazione secondo gli ultimi dati Istat dove si racconta appunto che la povertà italiana è la nostra siamo noi che siamo diventati più poveri per cui questo film proprio i protagonisti di questo film sono italiani e ne parlo comunque diciamo che la campagna crowdfunding è partita sta andando avanti devo dire che ha portato molta notorietà intorno a questo progetto che piace i media si sono interessati e tutto questo percorso pian pianino ci sta aiutando a raccogliere i fondi che servono per finirlo questo film ricordo che abbiamo girato i primi 20 minuti e siamo alla ricerca di aiuto di sponsorizzazioni per riuscire a finirlo abbiamo già la distribuzione sia in Italia che in Svizzera insomma è un progetto abbiamo nel quale cuore che parla per cui quindi mi sento di rinnovare insomma quell'annuncio che facciamo all'epoca del primo esordio insomma chi può farlo aiuti questo progetto ecco adesso mi tocca invece ritornare a volare e basta perché di questo è fatta anche la nostra vita vediamo un po' come chiudete quest'anno insomma e soprattutto che opinione dai anche in funzione di un divenire perché a volte il numero può essere foriero di una qualità che paga o comunque che apra nuove prospettive ma allora diciamo il nostro ultimo bilancio è stato il migliore dei 13 anni di Videschi Film proprio come numeri come risultato per cui siamo contenti da quel punto di vista vogliamo lavorare per essere sempre più in qualche modo gradevoli nel nostro modo di fare anche migliorare nella nostra qualità nel nostro modo di lavorare cercare di essere più attenti proprio a ogni dettaglio proprio della produzione anche quello che fa un po' la differenza insomma è un po' questo insomma sul quale cerchiamo non perdiamo chiaramente la nostra ispirazione di casi di produzione un po' all'inglese ma che non vuol dire essere inglese perché siamo maledettamente italiani riguardo al discorso di prima ma col fatto di essere una casa di produzione dedicata alla regia proprio secondo te la differenza secondo te infatti in questa epoca che abbiamo visto i dati parlano i 7 miliardi di investimenti il 70% riguarda i video si tornerà a valorizzare la differenziazione tra case di produzione insomma c'è stato un momento in cui sembravate quasi commoditi per lo meno eravate vissuti forse in questa maniera oggi tornano a essere valide le differenze a fare la differenza secondo me sì il nostro lavoro fa tanto la differenza in esecuzione perché lo dico da ex creativo un'idea sulla carta è una buona idea un'idea realizzata molto bene diventa una grande idea perché tra i da esecuzione proprio passa tanta acqua proprio per cui devo dire che le case di produzione con il loro lavoro portano tanta qualità in più al lavoro dell'agenzia ovviamente il lavoro si fa insieme all'agenzia siamo per collaborare per fare insieme secondo me andrebbe più riconosciuto questo questo lavoro che è un po' con l'avvento del potere dei numeri del cost controlling eccetera siamo stati ridotti a fornito ma non è così perché lo mettiamo tanta passione e questa passione porta proprio a tanta differenza insomma nel risultato finale appunto il nostro lavoro di case di produzione andrebbe ancora più valorizzato una cosa recentemente i premi della Directors Club ad esempio anche nella categoria craft esecuzione eccetera dove più che mai la case di produzione direttamente coinvolta non veniva nominata e questa è una cosa che trovo grave anche perché in passato in ADC si veniva nominata trab dico ragazzi non dimentichiamoci delle case di produzione perlomeno mettere il nome sotto quello dell'agenzia non sarebbe poco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti